se la sta pensando tu che stai facendo? mal di testa eh? un grandissimo mal di testa occhio che gira claudia sta riprendendo ma stai riprendendo? eh certo guarda quanto hai bevuto? solo questo guarda ti scattano subito per fare il vigio del bambino guarda oppure fai la fine di Rosario guarda faccio lo sai ormai è andato è già soccurito come lo vedi questo buco piccolo grande? a livello bene 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 poi abbiamo claudio la che è un capolavoro anzi 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 come dice già prega un pezzo da 90 non penso 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 da 90 allora scusate allora 90 e 90 99 e 90 e 99 180 vai a vedere quanto vino stai bevendo? no questo è quello che ho messo no questo è gianfranco è astigmatico è astigmatico cioè questo telefonino fa tutto fa pure il caffè certo